Innanzitutto buongiorno e buona domenica Video flash per dirvi che un'ora fa le trattative erano praticamente in chiusura Ritorno in serie A praticamente sì Dopo una stagione Morten Torsby E va al Genoa Con un prestito con obbligo di riscatto Un caso di salvezza dei Liguri E questo è un gran colpo E potrebbe rimanere in serie A Perché il Genoa si sta muovendo Puntellando la rosa In modo ineccepibile E attenzione, attenzione a quest'anno Attenzione a quest'anno perché hanno preso il tag in attacco Prendono Torsby a centrocampo Se arriva qualcuno in difesa Stanno puntellando ogni reparto Partirà sicuramente Coda Da quello che mi hanno detto Né sotto al video di appunto Retechi Vediamo se partirà qualcuno a centrocampo Ma Morten Torsby E' un colpaccio Ritorno in serie A Dove ha fatto tanto bene Con la maglia della Samp Praticamente si può dire che è un tradimento Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Dalla Samp al Genoa Ma come Rincon Perché Rincon era del Genoa E poi andò alla Sampdoria Quindi Morten Torsby A breve Sarà un nuovo giocatore del Genoa Vedremo se per una stagione O a titolo definitivo Alla fine Della stagione Questo è tutto Arriva ovviamente dall'Union Berlino E niente Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Prima bombetta Di giornata Praticamente Ufficiale E Ne aspettiamo altre Qui Da DaniFootball è tutto Noi ci vediamo Alla prossima Con un nuovo video Alla prossima